Allora ragazzi, mancano 18 secondi allo shop Vediamo un po' quello che uscirà questa sera Speriamo che sarà un qualcosa di positivo E non una solita stronzata Tutti stanno aspettando pan di zenzero Vediamo un po', vediamo un pochito Opla Ho paura Ho paura Eccolo qua Il pan di zenzero Allora ragazzi L'uomo pan di zenzero Bellissimo ragazzi Bellissimo Ci sono ovviamente i stili ragazzi Come al solito, come già vi avevo detto Con lo stile bruciato Bellissimo con lo stile bruciato Molto bello Con la faccia sorridente Con la faccia cattiva Sembra un coglione Con la faccia cattiva è più carino È bella ragazzi È bella, è bella Molto bella come skin Io l'ho sempre detto Che è da shoppare questa qua Beh vabbè C'è la donna ragazzi Anche lei con gli stili Prena trollata ragazzi Perché la donna alla fine Gli hanno messo solo la maschera In faccia È brutto così L'uomo è più bello Perché è tutto coperto Ragazzi l'uomo Va bene Vabbè ragazzi Il suo piccone Il deltaplano Slitta di zenzero Non male Ragazzi c'è movimento eleganti Maestro di macchi Hot rod Deltaplano L'interruttore La merda ragazzi Ascia sfidettante Qua Beggio ancora Ti chiamo Ti chiamo da battaglia Allora ragazzi Come già sapete Voi volete un consiglio Alcuni di voi vogliono dei consigli Io shopperei Il pan di zenzero Ragazzi Maschile Perché per me È portato il maschio Non la donna In questo momento Perché ragazzi La donna Guardate Si nota la coda Eccetera eccetera Per me È brutta Personalmente Non mi piace assolutamente È orrenda Perché ragazzi Non mi gusta Guardate qui Le fiamme che sono Buggatissime Vabbè Comunque ragazzi Fatemi sapere sotto nei commenti Che decisione avete presa Io aspetto Un vostro commento Quindi Diamo un po' Molti di voi Cosa shopperà E noi come al solito Ci vediamo Al prossimo Video shop Ciao ragazzi